Covid senza freni in Irpinia, contagi in aumento e altri 5 morti tra Moscati e Frangipane. Registrati ieri 152 casi in provincia, tasso di positività al 13% e le vittime salgono a quota 216 dallo scorso luglio. Al Campo Coni stamattina sono partiti i richiami Pfizer per gli over 80 del capoluogo, con un po' di apprezzione per le ultime notizie dopo il caso AstraZeneca. Un po' di apprezzione c'è, infatti ho fatto uso di sedativo prima di avviarmi per stare più distesa. Comunque dobbiamo accettarlo ed essere tranquilli. La preoccupazione c'è, è normale, però diciamo che o questo oppure si è sempre quella zona rossa, zona gialla, quindi a questo punto credo che il gioco ne vale la candela. Non ci sono altre soluzioni, sono stati valutati nelle sedi opportuni da scienziati e quindi certamente non posso essere io a giudicare la bondata del vaccino. Intanto è aperta la piattaforma per le prenotazioni dei pazienti fragili ad occuparsene, non senza difficoltà, i medici di base. Ed è stretta sugli spostamenti otto multe elevate in una settimana dalla task force messa in piedi dalla prefettura. Nel frattempo sono ancora critiche le condizioni di Angelo Frieri, direttore sanitario del Frangipane e del Criscuoli, in prima linea contro il Covid sin dall'inizio della pandemia. 70 anni, l'altro ieri è stato colto da arresto cardiaco nella sua casa di Avellino. Lotta tra la vita e la morte alla città ospedaliera.